Quello che ci lascia abbastanza moltificate, però nello stesso tempo allegre, perché chiaramente da un lato siamo felicissime per la restituzione della città di questa piazza, dall'altra parte però noi vorremmo che si rompesse un equilibrio malato, vorremmo smettere di assistere alle mistificazioni che questa amministrazione cittadina sta facendo, coprendo i veri problemi della città con l'imbroglio, con la falsità e quindi vantandosi di opere che non sono state portate avanti da loro, pur di coprire il declino a cui stanno conducendo questa città e tutti i cittadini. E allora adesso basta che si sappia che noi saremo presenti ovunque, da questo momento in poi, noi saremo il grillo parlante perché è giusto che i cittadini conoscano la verità, è giusto che si sappia quello che accade e che si smetta di andare avanti per slogan, per selfie, imbroglio e mistificazione.